Exoratics, oggi vi presento questo nostro nuovo arrivo. Renault in Space, alimentazione diesel, 1660 cavalli. Sul frontale troviamo subito dei comodissimi sensori di parcheggio per le nostre manovre. Spostandoci sulla parte laterale invece troviamo dei cerchi bicolor in lega da 17 pollici. Sono presenti già in dotazione delle bellissime barre al tetto di casa madre Renault. I vetri posteriori sono leggermente oscurati. Arrivando invece alla parte posteriore ritroviamo i sensori di parcheggio e la telecamera di retromarcia. Il bagagliaio è spaziosissimo, ha una capienza di 240 litri che può essere aumentato fino a 2000 litri a battere i sedili posteriori. Passando all'interno i sedili sono comodissimi in tessuto misto pelle, ciascuno è regolabile singolarmente. Troviamo gli attacchi isopix su tutti e tre e i finestrini sono regolabili elettricamente. Passando invece alla parte anteriore troviamo il cambio che è automatico, schermo touch per la gestione dell'infotainment e del climatizzatore, un comodissimo bracciolo porta oggetti, freno di stazionamento elettronico, volante in pelle con i vari comandi, è presente il sensore pioggia, il sensore luci e il cruise control. L'auto è stata immatricolata a marzo del 2017 e ha percorso solamente 86.000 km. Come tutte le nostre auto le trovate sul sito raptics.com